Ciao a tutti, dalla mia postazione ritirata, in questo tempo sospeso, volevo dedicarvi un brano tratto da un mio vecchio lavoro che sto riprendendo in mano proprio in questi giorni così sospesi e particolari, da un lavoro dedicato a Ildegada di Bingen, quindi sono venuta in garage, a casa, in uno spazio dove utilizzare anche un po' di riverberi e suoni dell'ambiente. Vi dedico un brano che si chiama AER, dedicato all'aria e a tutti noi e a tutti voi. AER NIM VOLA 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 Grazie a tutti Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima